potrà essere di sviluppo che non si potrà andare molto al di là di un anno, massimo un anno e mezzo. E allora che cosa si può fare per quel momento, ma non solo per quel momento, per guardare al futuro del nostro Paese che possa essere un futuro che esca dalle secche anche in questi ultimi vent'anni, un futuro da Paese democratico. Ecco, mi scuso, mi dicono che in questo momento è iniziato un collegamento con un'altra nostra riunione a Napoli, quindi per favore portiamo un applauso, un applauso libero, un applauso di un'altra. Grazie.